Ormai tanto in Italia decide tutto lui. Draghi, preferite la pace o il condizionatore? Sembra Mussolini nel 1938, chiedeva la folla. Preferite il burro o i cannoni? Cazzo, sono passati 84 anni. Ma a noi italiani ci piacciono sempre quelli che fanno domande populiste. Che poi, scusa Draghi, provo così a venirti dietro. D'accordo, dai. Mi chiedi di scegliere fra la pace e condizionatori. E poi però, è lì, mi metti il bonus sui condizionatori. Bonus, condizionatori, fino al 31 dicembre è possibile acquistare o sostituire un climatizzatore con detrazioni dal 50 al 65%. Ma come ragiona Draghi? Allora vedi che vuole la guerra. È come se il mio medico mi proibisse di bere. E poi dicesse, e ora brindiamo la diagnosi. E veniva! Tra l'altro, Draghi, cosa ci metti il bonus sui condizionatori se poi non ce li fai usare? Lo condizionatore del primo maggio è la stretta non meno di 25 gradi. Per ora è il limite di 25 gradi. Si applica solo agli uffici pubblici. Ma per gli altri ambienti ci stanno pensando. Resta però aperta la possibilità di estendere le regole anche ai privati. Tu pensa, ad agosto, 4 di notte, 40 gradi fuori, tu sei nel letto a 24 gradi e ti arriva un vigile col termostato per darti la multa. Ma come si fa a far rispettare una norma così che non vedi un vigile per strada a pagarlo oro? Oggi, stamattina, venendo qui, ne ho visto uno perché c'è stato un tamponamento. Ma non accadeva dagli anni 60. Infatti, quello di oggi era in bianco e nero. Ma quando ero piccolo io, i vigili, cazzo, c'era pieno ovunque. Mi accompagnavano in classe, mi pettinavano, mi facevano un uovo sbattuto, si facevano interrogare loro al posto mio, mi portavano dal dentista. E poi via, improvvisamente spariti. Oggi, per controllarti i condizionatori, devono mandarti i droni come i minori di report. Cioè, è impossibile. E comunque, il primo maggio non ci porta solo scomodità, eh. Mascherina al chiuso, stop dal primo maggio. Oh, finalmente, ragazzi, cazzo. Dopo due anni e mezzo ci togliamo ste mutande dalla faccia. Beh, lì. Eh, siete contenti? Eh? Oh. Eh, sì, no. Dai, basta, è finita. Al chiuso la mascherina si toglierà dappertutto. Beh, certo, con qualche piccola eccezione. Infatti, nei teatri la mascherina rimarrà, come voi avete tutti la mascherina, no? Giusto, è ovvio, anche nei cinema. Poi rimarrà obbligatoria solo sugli autobus, nella metro, sui traghetti, sulle navi, sugli aerei e sui treni. Beh, poi è evidente, nelle scuole rimarrà, per forza. Ma anche negli uffici pubblici, nei supermercati rimarrà. E' naturale, cioè, è ovvio, no? Invece nei luoghi di lavoro privati decideranno le aziende e quindi probabilmente rimarrà. Ma allora dove minchia ce la possiamo togliere, sta mascherina? Ma dai, è chiaro, no? Al ristorante. Al ristorante. Ce la togliamo al ristorante. Ma scusate, lì non ce la toglievamo già prima per mangiare. Quindi, tutti sti annunci sullo stop alle mascherine del primo maggio era per dirci che ora, quando andremo in pizzeria, potremo mostrare i denti nel tragitto tra la porta e il tavolo. Grazie, Draghi. Grande provvedimento ci sta cambiando il mondo, sta cambiando il mondo. Fratelli, ve lo giuro, io rimpiango tanto il 2019. Ma ve lo ricordate come eravamo felici? Senza la pandemia, senza la guerra, con il climatizzatore a palla.